L'investimento in obbligazioni può essere estremamente utile ai fini della costruzione di un portafoglio di investimento, a patto che sia un portafoglio ben diversificato. Molti investitori sono attratte dalle obbligazioni perché generano un rendimento costante grazie al meccanismo della cedola, ovvero il tasso che viene pagato annualmente da questi titoli obbligazionari. Ma l'investimento in obbligazioni è più complicato di quanto possa sembrare e vi invito a tenere in considerazione questi aspetti. Primo, il rendimento. Per quanto le obbligazioni offrano una cedola costante, il loro rendimento è storicamente più basso di quello di asset class volatili come l'azionario. Questo è soprattutto vero quando il tasso senza rischio è vicino allo zero e i tassi di interesse sono molto bassi, come in questa fase storica. Insomma, per cercare il rendimento con le obbligazioni bisogna per forza esporsi al cosiddetto rischio di credito legato all'andamento delle aziende o al rischio di valuta, cercando obbligazioni più esotiche. Secondo aspetto da considerare. Il valore delle obbligazioni cambia nel tempo. Il funzionamento di un'obbligazione è semplice. Presto i soldi a un'azienda. Questa mi restituisce un interesse ogni anno e tutto il capitale alla fine del contratto. Ma cosa succede se ho bisogno di vendere l'obbligazione prima della scadenza? Il suo valore varia nel tempo a seconda di molti fattori, interni e esterni, come il cambiamento del tasso di interesse offerto sulle obbligazioni di nuova emissione. Insomma, gestire un portafoglio obbligazionario per chi contribuisca a generare valore in modo continuativo e con regolarità non è affatto semplice e senza la guida di un professionista alla lunga potete rimetterci. Da ultimo vi invito a considerare che comprare e vendere obbligazioni può essere complesso perché si tratta spesso di mercati specializzati in cui agiscono solo pochi compratori e dove quindi le operazioni di compravendita sono più sofisticate e insidiose di quelle dei grandi mercati azionari. I money farm e le obbligazioni sono parte dei nostri portafogli. Esse servono principalmente a diversificare i portafogli più aggressivi, mentre rappresentano il cuore dei nostri portafogli più conservativi. Insomma, si collocano all'interno di portafogli di investimento calibrati sul profilo di ciascun investitore, con un rischio gestito da un team di professionisti che hanno l'obiettivo di generare rendimento nel medio e lungo termine. Tenete poi presente che per eliminare il problema della liquidità in money farm utilizziamo gli etf, grazie ai quali il nostro team costruisce e gestisce portafogli, nei quali le obbligazioni non solo sono diversificate per tipologia di titolo, geografie e rapporto rischio rendimento, ma presentano anche un costo basso e strumenti a costi contenuti, come gli etf, si sa, non erodono i vostri rendimenti come nel caso dei fondi comuni. Per conoscere meglio money farm e capire quali dei nostri portafogli e più adatto alle vostre esigenze basta andare sul nostro sito www.monefar.com potete simulare un portafoglio una volta iscritti e anche prendere un appuntamento con noi consulenti per discutere le vostre necessità. Vi ricordo di iscrivervi a questo canale youtube per restare sempre aggiornati sui nostri video. Una volta iscritti se cliccate sulla campanella riceverete una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti!